Questo film, secondo me, penso che abbia delle caratteristiche di grande interesse internazionale, perché il personaggio Michelangelo e il personaggio Concialoschi vanno oltre, perché raccontare la vita di Michelangelo con la visione che è capace di avere Concialoschi, secondo me potrebbe dare veramente al film l'opportunità di essere preso nel mondo, di essere visto nel mondo, sono quasi certa di questo. Si intitola Il Peccato, una visione. Il grande film d'autore che il regista Concialoschi dedica a Michelangelo, prodotto dalla Fondazione Andrei Concialoschi per il sostegno al cinema e le arti sceniche. Le riprese del film, sostenuto dal programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, sono cominciate il 28 agosto e andranno ancora avanti per alcune settimane. Si svolgeranno anche a D'Arezzo, in Piazza Grande, via Vasari e via di Pescaia, oltre ai luoghi di Michelangelo, a partire dal Monte Altissimo, Carrara, Massa, Firenze, Montepulciano, Bagnolipoli, Pienza, Monte San Savino, Tarquinia, Capragola e naturalmente anche Roma. Il maestro ama moltissimo questa zona, lui è assolutamente innamorato con Toscana e secondo lui questo film non può essere girato senza gli attori italiani e alcuna lingua straniera non può mostrare la bellezza della cultura. È veramente necessario girare questo film qui in Italia con gli attori italiani in lingua italiana e per lui è veramente importante perché soltanto così il film può essere organico, può essere naturale. Spero sia una grande occasione che ci porti bene in termini di promozione della città sugli schermi di tanta parte dell'Italia e dell'Europa e spero del mondo. Per chiarezza è una città bellissima, è definita più volte uno scrigno, come tutti gli scrigni è chiuso, si tratta di aprirlo e di farlo vedere a tutti.